Ciao a tutti Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Collezione e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi classico appuntamento riepilogativo per mostrarvi i miei acquisti Funko Pop del mese di aprile. Ho recuperato alcune cosucce interessanti da Funko Europe e sono un mix di prodotti del filone Art Series e altri Funko Pop normali che adesso vi mostro. Iniziamo subito da quelli targati Disney che fanno parte del mio cartoon preferito in assoluto di casa House of Mouse con il Funko Pop Artist Series 09 di Hogi Bogi. Ed ecco qui il nostro V-Land di Nightmare Before Christmas, il Bao Bao in versione Artist Series. Questa qui è la versione 09 perché poi esiste anche una versione speciale che io possiedo in collezione che vi ho mostrato qualche acquisti mensile Funko Pop molto bello e poi di questo filone qui ho recuperato anche il Funko Pop 08 sempre Artist Series, sempre dalla serie Nightmare Before Christmas e il 10. Quindi in sostanza ragazzi ho recuperato 8, 9 e 10 del filone Art Series di Nightmare Before Christmas in Funko Pop. Questi tre mi mancavano e li ho presi giusto per completezza, visto che sono un grandissimo fan di Nightmare Before Christmas. Molto belli, particolari con l'Art Protector. Poi, sempre per rimanere nel filone Art Series, ho recuperato anche il Funko Pop 41 di questo filone Art Series incentrato su Batman. Ed eccolo qui. Questa patina vintage con tutti gli elementi, il loghino di Batman su questo Funko Pop grigio. Questo qui è un Funko Pop esclusivo, targato Funko Shop. E niente, l'ho preso per bellezza perché questi Art Series onestamente a me piacciono, sono particolari da collezione. C'è anche l'Art Protector per cui non male tanta roba. Sono uno dei pochi che apprezza questo filone, questa wave qui. Adesso passiamo ai Funko Pop normali. Mi ricollego sempre a Batman. E oltre al Batman Art Series, ho preso anche Batman Beyond, il Funko Pop Pop Heroes 415. Con appunto questo Funko Pop qui basato sulla serie animata Batman Beyond, che è una delle tante serie realizzate nel corso degli anni, incentrata sul Cavaliero Scuro. Io sono legato a Batman The Animated Series, quella anni fa che andava molto di moda negli anni 90, ma poi è stata fatta anche Batman Beyond, dove prevedeva e mostrava questo Cavaliero Scuro in una sorta di versione futuristica molto high-tech, con questo costume un po' particolare. Funko Pop molto carino. L'ho preso appunto perché guardavo la serie TV animata quando ero ragazzino e quindi da amante del buon pipistrello, del buon supereroe DC, ho preso questo Funko Pop esclusivo e bollinato Funko Shop. Non male, carinissimo, piccolino, leggero, niente di così eccezionale, ma carino per chi è cresciuto come me negli anni 90, ha sicuramente un ricordo piacevole di questa serie animata Batman Beyond. Sopassiamo a un Funko Pop legato ai Master of the Universe. Io non sono un fan sfigatato del cartoon, della serie Master of the Universe, però mi piace la mitologia e ho guardato qualcosa. In particolare sono sempre stato affascinato dal cattivo, dal villain Skeletor, e quando ho trovato su Funko Europe questo Funko Pop, l'ho preso perché oggettivamente è molto molto bello, lo reputo fantastico, mi piacciono molto i colori di questo villain. Ed ecco qui voi Skeletor in tutto il suo splendore in versione metallica. Infatti questa qui è un Pop Metallic Special Edition. Davvero fantastico, è il mio primo e probabilmente unico Pop a tema Master of the Universe. Davvero curato, dettagliato, guardate i denti, fantastico, molto molto bello. Adesso passiamo all'ultimo e questa volta ci buttiamo a capofito nel mondo Marvel. Io sono un grandissimo fan di Carnage e ho recuperato il Funko Pop Marvel 797 Carnage Special Edition. Infatti qui possiamo trovare l'archivillain, uno dei villain più noti di Spider-Man, il figlioccio di Venom, e come ogni buon simbionte ha anche un corpo ospite. Se Venom ha Eddie Brooke, Carnage ha Cletus Kasady come corpo, come fulcro ospitante. Chi conosce comunque l'epopea di Cletus Kasady sa benissimo che è un plurioomicidio, un mega serial killer. Infatti Carnage, carneficina, è il dio del massacro. Questo Pop qui mostra la duplice personalità, la versione umana e la versione simbionte. Infatti troviamo il corpo diviso in due estremità. E questo qui ragazzi è il mio ultimo acquisto Funko Pop del mese di aprile. Fatemi sapere nei commenti quale tra questi Funko Pop è il vostro preferito, se ho fatto bene a prenderli e se come me amate l'art series della Funko. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!